Siamo in compagnia del noto sinologo trevigiano Adriano Madaro. Con lui stiamo approfondendo tutta una serie di argomenti legati all'Oriente, alla Cina e alla sua grande passione. Quest'oggi approfondiremo il tema di Hong Kong. Qual è la genesi degli scontri, delle sommosse che da diversi mesi stanno interessando questa metropoli asiatica? La genesi è che Hong Kong è un territorio inalienabile della Repubblica Popolare Cinese o se vogliamo anche in passato, prima del 1949, della Repubblica Cinese Nazionalista. O prima ancora dell'Impero Cinese. Quindi è sempre stato in continuità un territorio rapinato però dagli inglesi nel 1840, dopo la prima guerra dell'Opio, imposta dagli inglesi ai cinesi per poter avere i soldi per comprare, con i soldi stessi i cinesi, tutto ciò che di bello e di rico si poteva comprare in Cina. Quindi una pirateria ad altissimo livello. Nel passare degli anni di questa cosa è durata 150 anni, nel 1984 c'è stato un accordo tra la Repubblica Popolare Cinese, Pechino e Londra e la Gran Bretagna, il governo inglese, firmata da Deng Xiaoping per la Cina e dalla Thatcher per gli inglesi, con la quale si stabiliva che Hong Kong veniva restituita pari pari con tutte le sue isolette alla Cina nel 1997, allo scadere di questo affitto che era stato imposto senza essere pagato. Ciò avvenne senza colpo ferire, infatti io la notte tra il 30 giugno e il primo luglio del 1997 ero a Hong Kong ad assistere che una bandiera viene giù, quella inglese, e una bandiera sale su, quella cinese. Per 22 anni, ora sono trascorsi 22 anni, la situazione è stata tranquilla. Da un po' di tempo c'è un'organizzazione teppistica, in gran parte fomentata dall'appoggio degli Stati Uniti e foraggiata economicamente, perché questo è stato dichiarato dal Consolato americano Hong Kong, per supportare i cosiddetti diritti umani, che tra l'altro a Hong Kong non c'è un problema di diritti umani, proprio perché c'è una basic law, una legge basica, concordata e iscritta all'ONU, che Hong Kong nel ritorno alla Cina rimane per 50 anni, quindi fino al 2047, con le sue stesse istituzioni. Non c'è più ovviamente il governatore inglese a nome di sua maestà britannica, la regina, ma ci sarà un consiglio eletto. Quindi, diversamente da come gli inglesi avevano impedito sempre il soffragio universale, perché la gente di O'Connor è mai andata a votare. Era sottoposta alla legge di una colonia, proprietà inglese, quindi quando c'era un consiglio che andava bene a Londra, non c'era alcuna necessità di avere un popolo che eleggeva chi, se i padroni erano gli inglesi. Quindi la Cina dal 1997 ad oggi ha dato ovviamente il maggior diritto che è quello del soffragio universale, quindi la democrazia se vogliamo. E cos'è che richiedono gli abitanti di Hong Kong allora? Ma gli abitanti di Hong Kong, non si sa esattamente cosa chiedono gli abitanti di Hong Kong, anche perché questo movimento è all'80% formato da giovani che probabilmente non hanno ancora dichiarato che vogliono staccare Hong Kong dalla Cina e creare un territorio indipendente, cosa questa è impossibile, perché la Cina ha detto noi siamo pronti anche alla guerra per una cosa del genere, perché si tratta della intangibilità del nostro territorio sul quale abbiamo la sovranità. Allora non ottenendo, non si sa ancora cosa perché non c'è un pacchetto di richieste, c'è in senso ampio la democrazia, così come la dice Trump, che il giorno dopo magari ritira e dice no ma il mio amico Xi Jinping adesso vedo con i Dazi e quindi della democrazia Hong Kong se ne scorderà. Quindi la democrazia è in senso ampio, ma la democrazia è secondo questi giovani la possibilità di saccheggiare, di imporre una loro presenza nel governo locale e che siano eletti, va bene, non c'è un problema, infatti ci sono state le elezioni, hanno vinto al 90% quelli del cosiddetto movimento o che appoggiano il movimento e vediamo che cosa vogliono in realtà. Ci sono dei problemi a Hong Kong, per esempio gli appartamenti, è difficilissimo avere la casa e costano molto, questo è un grosso problema, ma è un problema che non si risolve andando a saccheggiare lungo le strade, le auto, i negozi o tirando i stampietrini alla polizia o addirittura sparare sulla polizia con l'arco e le frecce che è un simbolo di foresta, ma insomma è pericoloso. Pertanto c'è questo grosso problema che non viene affrontato in maniera logica perché è illogico procedere nei fini di settimana soltanto con il vandalismo come è accaduto a Parigi con i gilet gialli, questo è un grosso problema. Noi sappiamo che la Cina aveva chiesto a Hong Kong di votare, perché c'è un governo abbastanza autonomo, sia pure sempre supervisionato dal governo cinese, di creare una legge per poter avere la disponibilità di giudicare, quindi un'estradizione, di giudicare elementi delinquenziali potenzialmente pericolosi per la società anche di Hong Kong che si diffugiano a Hong Kong, in quanto c'è ancora questa legge abbastanza elastica e gli inglesi non è che avessero imposto un controllo molto drastico, insomma. Tanto è vero che Hong Kong è la base da sempre, da 150 anni, della triade, della grande mafia cinese e trafficanti dalla Cina, trafficanti soprattutto anche con la vendita di bambini, con la vendita di donne, ma soprattutto la droga, perché si fa il corridoio del triangolo d'oro della Birmania attraverso lo Yunnan, si arriva facilmente a Hong Kong, quindi la Cina, preoccupata di questa delinquenza che ha trovato a Hong Kong il suo rifugio, ha chiesto che venga creata una legge per l'estradizione per arrestare e prendere questi banditi, questi delinquenti internazionali, di cartelli internazionali, per essere giudicati dalla più severa legge cinese. Da lì è nata la protesta dicendo «Ah, ma si comincia con questo e poi l'estradizione, allora qualsiasi cittadino può essere estradato». Non è vero, perché si è chiesta proprio al governo di Hong Kong, adesso hanno eletto un nuovo consiglio, no? La Cina ha il diritto di chiedere, di mettere ordine in una situazione così caotica e pericolosa anche. Uno dei problemi più importanti è sicuramente quello dell'ingerenza occidentale e internazionale sulle questioni che riguardano il governo cinese, questa diatriba con Hong Kong, ma dall'altra parte anche il problema diplomatico che è nato, questa ingerenza anche italiana, con una videoconferenza organizzata in Senato, in Italia, a Roma, con alcuni membri della maggioranza, in ogni caso dei parlamentari, che in collegamento con la Cina hanno parlato e hanno dato la parola proprio al leader di questi movimenti, di questi rivoluzionali, potremmo dire così. L'iniziativa della leader di Fratelli d'Italia, la Meloni, c'è stata una conferenza stampa, un incontro interparlamentare, con la partecipazione anche dei parlamentari, come lei ha detto, della maggioranza di governo, che avevano chiesto che il giovane capo 22enne della cosiddetta rivolta di Hong Kong, Joshua Wong, intervenisse in Italia e venisse a parlare di questa situazione, quindi ospite d'onore. Allora, le autorità di Hong Kong le hanno impedito la partenza, perché contro di lui ci sono almeno una ventina di capi di imputazione, la polizia e la magistratura di Hong Kong stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie su di lui e sui tappisti più evidenti, sebbene fossero mascherati, per giudicarli e quindi non può andare all'estero, dove potrebbe anche rifugiarsi e scappare e sfuggire alle sue responsabilità penali. Ma in più, l'ambasciata, il consolato italiano di Hong Kong, avrebbe anche rifiutato eventualmente un visto, perché dal nostro Ministero degli Esteri era venuta questa opportunità di dire, è bene non riscaldare troppo gli animi, quindi non interveniamo negli affari interni della Cina. L'Italia che cosa ha fatto e quindi la Cina di che cosa si è lamentata? Allora, l'Italia ha organizzato una videoconferenza con questo Wong, questo giovane Hong Kong, che è intervenuto in una conferenza stampa con i nostri parlamentari, alla presenza di giornalisti, dando una versione totalmente fagiulla dei fatti, o cioè esclusivamente di contrasto nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, di forte critica e anche paventando la necessità di una possibile anche differenziazione tra il territorio di Hong Kong e la Cina stessa, insomma senza dirla espressamente chiedere una indipendenza. Ora, su questo la Cina è disposta a fare una guerra, perché l'ha detto, noi spezzeremo le ossa di fronte a una cosa del genere, non può accettare. E quindi l'ambasciatore cinese in Italia come si è espresso? Quindi l'ambasciatore cinese in Italia, tanti le buone relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Cina, perché il prossimo anno si celebra il cinquantennale dell'apertura delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, ha naturalmente pubblicato una nota di protesta nei confronti di questa iniziativa parlamentare, in quanto si tratta di un atto di inimicizia nei confronti della Cina. Se tu accogli la voce unilaterale del capo di una rivolta anticinese che non prende la base da una realtà tipo il calpestare, la democrazia, e invece quelli di Hong Kong sono molto più tutelati con una forma di democrazia che è stata concordata con la Gran Bretagna e che è sotto osservazione dell'ONU. E quindi questo denota un'incapacità dei nostri politici, anche dei nostri uomini, della diplomazia proprio, di conoscere quelle che sono le problematiche, il modo direi anche il galateo istituzionale con il quale ci si rapporta con queste superpotenze. Certamente, non c'è dubbio. Si tratta di una diplomazia che oscientemente ha fatto una scelta di ignorare e quindi di porsi sotto l'ombrello americano nel senso di giudicare i fatti della Cina con questo strabismo tipico di Trump che un giorno dice una cosa, un giorno dopo un'altra, oppure veramente ignorano. Quindi non so dove sta la mala fede o la buona fede. Certo c'è da aggiungere una cosa. Forse, bisogna essere onesti, l'ambasciatore cinese è esagerato perché la sua è stata un'incursione su un'iniziativa politica libera non del nostro governo in questo caso ma comunque di membri del governo o comunque di responsabili parlamentari politici. se mi fosse stato chiesto, diciamo, una cosa teorica un parere, avrei detto non intervenire. Lascia fare che poi, secondo la vecchia tradizione cinese quel proverbio di sedersi lungo il fiume che passerà un giorno il cadavere del tuo nemico perché sei tu un nemico e tu sei una brava persona sarà nemico anche di altri magari di uno nervoso che lo ammazza. E questo potrebbe minare, lei ha detto, i 50 anni di relazioni diplomatiche fra Cina e Italia o lei si augura che l'anno prossimo ci siano tante occasioni per conoscere ancora di più questo paese straordinario e anche questo rapporto così importante? No, non si può perdere una relazione diplomatica per una sciocchezza del genere. Hanno fatto male i nostri a fare una riunione e fare intervenire in videoconferenza o se possibile sarebbe intervenuto fisicamente colui che guida l'avversione alla Cina e è stato un po' imprudente l'ambasciatore a intervenire su una questione abbastanza delicata insomma trattandosi di parlamentari non di un'associazione qualunque sulla strada. tuttavia è comprensibile perché la Cina in questo momento ha difficoltà a far capire esattamente come sta la situazione di Hong Kong ecco, noi speriamo di averlo detto in modo semplice e chiaro. grazie a tutti